Momenti di paura ieri sera per un imprenditore, Stefano Proietti, 59enne, e la moglie, rapinate in casa in zona Aurelia a Roma. Intorno alle 23 una banda di 6 o 7 rapinatori, a volto coperto e armati di pistole e bastoni, hanno fatto irruzione nella loro villa minacciando il domestico che stava rientrando. Hanno costretto l'imprenditore ad aprire la cassaforte rubando contanti, orologi e gioielli. Poi, dopo aver fatto disattivare l'allarme, sono scappati con il bottino del valore di circa 300.000 euro. Non ci sono feriti. Sulla vicenda indaga la polizia. Il sopralluogo nella villa da parte della scientifica è stato mirato alla ricerca ad eventuali impronte e tracce lasciate dai rapinatori. Non si esclude che a colpire sia stata una banda responsabile d'azione analoghe anche le porte della capitale negli ultimi tempi.